Cerimonia di inaugurazione questa mattina della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Teramo alla presenza tra gli altri del sottosegretario al Ministero dell'Interno Gian Piero Bocci. Lo Stato c'è forte e soprattutto è uno Stato che vuole stare vicino ai cittadini. L'ho ricordato, noi stiamo facendo uno sforzo notevole cercando di assumere nuovi ragazzi per rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco ma anche delle forze dell'ordine sul territorio. Fra pochi giorni inizieranno altri corsi per altre 1.030 assunzioni. Sono in corso altre 500-600 assunzioni che si concretizzeranno il 29 dicembre. Insomma, da qui al 30 giugno noi porteremo dentro al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quasi 2.000 persone, nuovi vigili, nuovi pompieri che verranno distribuiti sul territorio. Naturalmente tra i territori ci sono i comandi provinciali dell'Abruzzo, ci sarà la direzione regionale dell'Abruzzo. Io credo che da qui a poco metteremo sul territorio tutte quelle risorse che sono necessarie e indispensabili. Il sottosegretario ha poi ricordato chi con dedizione, impegno e passione ha perso la vita al servizio del territorio. Tanti uomini, tante donne che sostanzialmente hanno lasciato le proprie famiglie, hanno perso la vita per servire lo Stato. I Vigili del Fuoco al loro vantaggio c'è che non dimentichano. Gli uomini che fanno parte del corpo, che hanno fatto parte del corpo, che non ci sono più, sono uomini che vengono ricordati con grande puntualità e con grande emozione. Sabato a Pescara sarà un'ulteriore testimonianza della grandezza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E con uno sguardo aperto al futuro e con un'esperienza maturata in diverse città italiane che il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco ha presentato le linee guida del suo aggira. Questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza. Un punto di partenza per aumentare quel livello di professionalità e il livello soprattutto di vicinanza al cittadino che ha bisogno continuamente di sentire lo Stato, così come ricordava il sottosegretario, appunto molto presente. Teramo avrà un organico aumentato e ovviamente con un organico aumentato è indubbio che ci sarà una maggiore vicinanza e una maggiore risposta operativa dei Vigili del Fuoco.